Benvenuto nella casa sull'albero più magnifica di sempre Cosa ne pensa di quest'albero? È un alberone enorme, come fa ad essere pure una casa, scusami? Allora, prima di tutto voglio chiedere una cosa C'è una casa sotto che è la tua, ma poi sopra, ok, c'è un villaggio Come un villaggio? Un villaggio sull'albero, Steph? Di sopra in altissimo c'è un villaggio, poi dopo te lo faccio vedere Però prima pensiamo alla nostra casa Quindi nei rami c'è un villaggio, ma qui nel tronco, qui sotto, dove vedi che c'è quella sorta di bunker C'è casa nostra, Fere Ovviamente è stato tutto costruito dall'assistente segreto Quindi consolini in descrizione, c'è il suo Instagram Andate a ringraziarlo perché sta roba è tipo boh Ma è spettacolare È spettacolare Però partiamo subito con il tour Io quest'oggi prenderò, ok, il posto del classico, della classica persona che ti fa vedere la casa per vendertela Quindi dell'agente immobiliare Quindi dell'agente immobiliare Ma non mi veniva la parola, quindi ho allargato Sì, anche casa mia, ma io prima te la vendo e poi vivo con te Ma io non ho soldi, Steph Pazienza Ah, è gratis, ok, però fai pinta di vendere Esatto, brava, brava, brava Ok, vai Ok, quindi iniziamo Allora, come puoi vedere abbiamo una fantastica scalinata in mezzo al legno qua Sì Possente con un'entrata incredibile, eh Cosa ne dice della porta? È bella sicura? Sì, sì, almeno è a prova di ladro Esatto, non potrebbe entrare nessuno A prova di creeper A prova di mostri Esattamente Facendo tasto destro ovviamente si apre Ed eccoci qui nell'entrata Allora, qua c'è una cosa molto importante Se tu ci pensi, molte volte quando tu torni a casa Ti scappa la pipì E normalmente tu devi fare tutta la casa per arrivare al bagno E fare finalmente la pipì Vabbè, Steph, non è che abbiamo mai avuto una casa così tanto grande Cioè non è un problema arrivare al bagno Ma anche 30 secondi in più Che è pericoloso Qua invece abbiamo la soluzione Perché se tu guardi All'entrata abbiamo subito i bagni E se tu Guarda, ti faccio vedere Aspetta, vado nel bagno degli uomini Ok Guarda Uuuuh, carino Aspetta, lo posso anche io Per segnare che sono occupato Che il bagno è occupato Esattamente Non entrare E quindi, boh, c'è questa scienza qua Te la volevo far vedere Dopodiché, ovviamente Si entra da qui Quindi un'altra porta In modo tale che nessuno possa entrare E questa è la casa Allora, già come puoi vedere È tutto fatto di legno Ma guarda qua che forme che ci sono È una roba incredibile Con un pavimento molto colorato Per, diciamo, togliere un po' tutto questo marrone Perché altrimenti Che abbiamo nei muri È tutto legnoso Esatto Esattamente Allora, qui alla destra Abbiamo la cucina Ok È molto spaziosa Guarda qua che bellezza Guarda che bello Ti piace? Eh sì, moltissimo Lo so, lo so, lo so È proprio bella spaziosa Ma poi, con tutto così in legno Ci sta alla grande Poi venga com'è Si, sta un po' di rustico È presente quando ti vuoi fare La vacanza in montagna Esatto In quegli sciale Si ricorda un pochettino quello Esatto, esatto Dopodiché qua Abbiamo la cassaforte Per nascondere tutte le nostre ricchezze Eh, mi sembra giusto Non è per niente male Ovviamente non è compreso nel prezzo Tutte queste ricchezze le portiamo via Mi spiace Quindi Cosa sta facendo, signorina? La vedo ferma a troppo tempo Sono un po' preoccupato Sì, voglio trovare il modo Di portarmi a casa i diamanti No, andiamo Forza Questo tipo di cassaforti Vedi, sono fatti apposta Per gente come lei In modo tale Che gente come lei Non possa far nulla Se lo dici tu Questa è una stanza Che può decidere Di arredare come vuole Può essere uno studio Può essere un bagno Di quelli stralusso Può essere Ad esempio Una sala musicale Perché secondo me Sì Potrebbe essere molto bello Certo Quindi qua potrà decidere Lei che cosa mettere E poi la parte migliore Della casa È qui Qua ci sono le camere da letto Ok Alla destra C'è la tua stanza Alla sinistra C'è la mia stanza Per favore signorina Gli ho detto di entrare? Sì Ok Alla destra C'è la sua stanza Alla sinistra questa E di fronte a noi Ok E continua ad entrare Ci sono le cabine armadio No, vabbè Che carine Bellino 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 In modo tale Da non avere l'armadio In mezzo alle scatole Ma averlo qua Super mega comodo Ovviamente la sua stanza Se la potrà arredare Come meglio preferisce Perché è giusto Che sia così E quindi questa qua è la casa Le interessa La vuole acquistare o no? Sì Sicura? Allora sì Guardi ho anche i soldi Guardi 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 Qui dentro Davvero? Sì Questi sono i miei soldi Quindi grazie Posso anche rimanere qui dentro Non mi fa Non mi offende Se mi chiude dentro Anzi Io sono molto felice Perché mi porto via Tutto quanto Muoviti Andiamo su Quindi In poche parole Partiamo entrambi Arredandoci Ognuno la propria camera Ok Ok E dopodiché Decidiamo insieme Che cosa fare Nella stanza extra Se fare uno studio Se fare una saletta musicale Eccetera eccetera Va bene Allora Vediamo un pochettino La stanza non è troppo grande Quindi devo No sì Gestirmela abbastanza bene È molto minimale Però ci sta Perché comunque La casa è enorme Quindi non è che Te ne fai troppo Di una stanza gigantissima Allora Io voglio Un letto matrimoniale Rosso Mi sa E a me è sempre piaciuta Sta cosa Io non credo sia normale Che piaccia A gente come me Non mi dovrebbe piacere Però mi piace Perché credo che sia più Una cosa da ragazza Il letto rosso No il letto con A baldacchino Non lo so Si chiama a baldacchino A baldacchino Che parola è? Non sa manco Come si chiamano Le cose Stai zitto Steph Guarda E comunque Mi piace un botto Che vergogna Che Aspetta 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 Però non me lo fa mettere Attaccato ai muri Il baldacchino Ah no Perché c'è la torcia Allora scusate Un attimo Sistemiamo Opla E opla Oh Dimmi che non lo avresti Nella vita reale A me piace troppo È un tipo di letto Che mi piace davvero Davvero un sacco La torcia dove Cavolo è finita Vabbè l'ho perso Pazienza Poi Vediamo un pochettino Cos'altro posso mettere Di sicuro uno specchio Anzi Facciamo proprio Le cose A modo di Steph Allora Questo lo voglio Pensavo fosse un'altra cosa Questo lo voglio Ho sbagliato Questo lo voglio Non è quello che pensate Era molto più egoistico Allora Dove Oh Steph Ma non sai manco Arredarti una casa Ti stai incassinando Ho confuso La vasca da bagno Per la camera Con la culla Per un bambino Ah È stato un bel fail Allora Vediamo Questo O Questo No è più bellino Questo È più bellino Questo Senza ombra Di dubbio Quante cose Tipo qua Sì così Esatto Perché prende Dipingo all'improvviso Durante il giorno Infine Qua È molto sicuro di sé Steph Molto Sto facendo Un bel lavoro Sì L'ha fatto mettere Sì Molto carino Perfetto Ok Poi Qui mettiamo Questa Ovviamente Perché Bisogna svegliarsi La mattina Ah beh Però c'è sempre Una tattica Quando una stanza È abbastanza piccola Metti gli specchi Così sembra più grande Ma dai Stai ridicolo Me l'ha sempre detto Mia nonna Ma stai ridicolo E io mi sono ricordato Ma chi te l'ha detto Di questo Grande consiglio E quindi È davvero una vergogna Mi approfitto Ne approfitto Assolutamente Poi Cos'è un Saving kit Fere È il kit di cucito Ah no Direi che non è adatto Alla mia stanza Io volevo Il mini frigo Perché nella stanza Nella mia stanza La letto Vorrei il mini frigo Sarebbe strabello Eh sarebbe bello Sì Però non credo ci sia Posso venire a vedere La tua stanza Ho finito io Steph Sì certo Ok Allora Un bel quadro Un pupazzetto Signor maialino Il letto ovviamente Viola Ok 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 Devo dire che è carina Hai una stanza un po' più grande Della mia Ma davvero Qualche metro quadro In più ce l'hai E vabbè ma è giusto Le ragazze devono avere sempre La stanza più grande Hai avuto un bel vantaggio Però devo dire che hai fatto Un buon lavoro Vieni a vedere la mia Secondo me ti piacerà Per una volta Ho fatto un bel lavoro Venga 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 Sì è vero È un po' più grande la mia È vero Sì Però questo quadro C'è questo acquario Messo su una mensola No è carino Forse un po' più da salotto Steph Però è molto carino Come ci sta mi piace L'ha fatto con la mensola Quello è carino Lo so E poi lo specchio Per allargare la stanza L'orologio L'orologio Questo l'abbiamo fatto uguale Il comodino I fiori li hai visti? Sì sono molto carini Vero? Questi soprattutto Mi piacciono molto E questo Steph A chi ha rubato i gioielli No è un carillon Eh ma ci sono dei gioielli È un portagioie carillon Perché è un portagioie carillon? Ti piacevo Vuole mettere la musica Abbiamo capito Che ti piaceva la musica Però il giradischia È troppo grande Quindi ho messo quello Capisci? Sì sì Ci sta Ci sono rimasto male In ogni caso Facciamo così Questa stanza Quella Dove possiamo decidere Facciamo un sondaggio E la scelgono i consolini Quindi non la facciamo adesso Ok E io ti porto A vedere al volo Il villaggio Che sta tutto sopra Lo vedo l'ora Eh? Eh quello sì Sei curiosa? L'ho intravisto da sotto Quindi sono molto curiosa Ma dove si passa? Cioè è altissimo Come ci arriviamo lì in alto? Non mi ricordo dove è l'ascensore Come? Possiamo volare No Non mi ricordo l'ascensore No Steph ricorda Forse qui sotto? No Fede Non credo proprio Ma c'è qualcosa di strano Fede No Non credo Dai No ci siamo incastrati Ok Eh Dai no Voglio prendere l'ascensore E non mi ricordo dove è Porca miseria E cercalo Ma sei quanto grande L'albero Eh lo vedo che è grande Mamma mia Poi ci sono zone buie Sì è talmente gigante Che fa anche buio eh È una roba Impressionante Ti odio Steph Voglio l'ascensore Eh Fede non so dov'è Beh andiamo Grazie Sei odioso Ma non mi ricordo Ma non mi ricordo Comunque sappiamo tutti che lo stai facendo apposta perché tu hai poro degli ascensori Sì lo stai facendo apposta Dove sei finito? Sei volato su? Sì sto salendo Sto salendo Ah ecco ti vedo Eh vabbè ma no Ti ti pizzo? Ci mettiamo una vita Ti ti pizzo? No non mi servi grazie Ciao Eh vabbè Ok allora ti faccio vedere È tutto fatto a rami Sì non so perché sta pure nevicando Ma sono in questa zona poi nevica Esatto Vabbè È talmente grande che ha diversi biomi Tutte casette così come puoi vedere Balconcini ovunque Tu sali sopra le case Vedi ci sono tutte le scalette così Tutto strabellino Guarda 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 Ok sì ti seguo ti seguo Eh mi sono perso Teoricamente c'è un modo per uscire dalla stanza Cioè dalla casa E andare nelle case successive Oggi Steph non è un buon agent Eccolo 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 E qua 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 Vieni Vedi E qua trovi altri rami Che in realtà però sono i ponti Che collegano tutto il villaggio E tutto il villaggio È fatto con appunto delle case Dei ponti Dei rami Ed è abnorme No è Cioè Non ne vedo la fine io da qui È impressionante quanto è grande Lo so Ma quanto vorrei vivere qui nella realtà Vero? Sì Anche a me piace un sacco Con la nostra casetta sotto Sopra un altro villaggetto Per non rimanere soli Giustamente Mi sa che c'era qualcosa di simile A questo posto Su Wildstar L'MMRPG C'era tipo una città tutta sopra l'albero Vero? Sì Era abbastanza simile Adoravo quel tipo di ambientazione È bellissimo È bellissimo Qua ci dovrebbe essere qualcosa Non so bene che cosa Perché non ho esplorato troppo neanche io Il villaggio Ma questo è il mio trono Stef Non mi ha detto nulla Per essere la regina della città sull'albero Ma non si può sentire È un trono però Sì sì che è un trono Sono d'accordo Per il sovrano di questa città Che sarei io Quindi questo qua È la casa Al centro dell'albero Che è il castello È gigante Stef Ed è enorme È enorme Cioè se entri un po' ad esplorare Ti perdi pure È troppo grande Very good Bellissima Very 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 good Quindi consolini Scegliete voi cosa facciamo Nell'ultima stanza Della nostra casetta Sull'albero Fatecelo sapere con il sondaggio Ovviamente se il video vi è piaciuto Lasciate tanti likes E ci fermiamo così